Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Elena e oggi nuovo video in cui vediamo assieme gli errori più comuni per fare l'eyeliner. Prima di cominciare mi raccomando se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi per non perdervi tutti i miei prossimi video e dato che ci siete seguitemi anche su Instagram. Direi di iniziare subito ma prima sigla! Il primo errore è quello di disegnare la codina troppo bassa, così facendo non andrete a slanciare l'occhio ma bensì a renderlo molto più all'ingiù. Disegnate invece una linea che segue la direzione della rima inferiore e prolungatela verso la fine delle sopracciglia. Il secondo errore è quello di disegnarlo con l'occhio chiuso. La forma dell'eyeliner deve essere bella ad occhio aperto e avrete notato anche voi che con l'occhio chiuso non riuscite ad essere precise. Disegnatelo quindi con l'occhio aperto, in questo modo potete già vedere il risultato finale. Il terzo errore è quello di disegnare la riga troppo spessa, questo non vi aiuterà di certo a slanciare l'occhio e come potete vedere il risultato non è neanche così bello. Tracciate una linea sottile all'attaccatura delle ciglia e vedrete che l'occhio sembrerà molto più allungato. Il quarto ed ultimo errore è il più diffuso ed è quello di tirare con forza la parpebra. Non solo è sbagliato ma facendo questo movimento non riuscirete mai a tracciare un eyeliner preciso e soprattutto della forma giusta. Spero che questi consigli vi siano stati utili, se è così lasciate un like a questo video e noi ci vediamo alla prossima!